E' stato un Gagliari che ha fatto il suo dovere, ha centrato il passaggio del turno, ha vinto per 3-1 contro la Caralese, lo ha fatto con l'autorità dovuta rispetto a una squadra neopromossa in Serie B che ritornava dopo tanti tempi nella caratteria e un risultato quasi storico quello che la Caralese ha ottenuto l'anno scorso nel suo campionato. Lo ha fatto con una squadra che chiaramente è una squadra molto più debole della media alta della caratteria e ha dimostrato alla squadra di Nicola di avere una mentalità diversa, quella votata all'attacco, quella capace di trovare la verticalizzazione, quella di scendere in campo anche con tre attaccanti come ha fatto all'inizio Lovumbo, Piccoli e Pavoletti. E con la P3, perché sono tre P che hanno segnato, Piccoli appunto, Pavoletti ma il gol è quasi il tutto anche in questo caso di Piccoli e poi Prati, nel secondo tempo con la P3 è riuscita a vincere sulla Caralese quando ha saputo soprattutto tenere il pallone lontano dalla propria metà campo, dagli ultimi 20 metri di difesa perché in quei 20 metri invece qualche difficoltà l'abbiamo avuta. Soprattutto abbiamo preso un gol che era assolutamente evitabile con un errore che ha generalizzato tutti ma che è partito da una leggerezza di ogello, da una strada di mezzo di scuffetti, insomma da una difesa che si è improvvisamente aperta come se fosse un unico mare che doveva far passare la comitiva avversaria. Un Cagliari quindi che è un cantiere aperto che mostra di avere, ripeto, la mentalità offensiva che sta crescendo, di avere la voglia soprattutto in casa di battere squadre alla sua portata ma deve stare molto attenta a quella che è la fase difensiva, ci deve lavorare parecchio ed ecco perché anche gli arrivi di Palomino, il ritorno di Mina finiscono per essere quasi una necessità visto oggi il rendimento della squadra nella fase di difesa, soprattutto nella fase di difesa. Bene Marine con le sue pennellate perché è stato molto bravo a ispirare i giocatori d'attacco, bene la contraerei che il Cagliari ha messo dentro soprattutto sui calci piazzati e soprattutto con il peso atletico di Piccoli e Pavoletti in particolare all'inizio, bene Luperto che si è ben integrato e ha mostrato di poter essere anche un leader capace di servire un assist per Piccoli in occasione del primo gol, quello che ha sblocato la situazione con Piccoli che ha fatto un gran movimento. Insomma tanti segnali positivi, il desiderio di crescere ancora ma anche il campionato che la porta, non sarà certo tutto come è successo oggi con la Calarese perché dalla prossima partita c'è la Roma e bisogna mettere a punto quello che c'è da crescere, anche sul piano atletico qualcosa in più da fare c'è ancora per arrivare al top della condizione quando il campionato comincerà a chiamare. Grazie a tutti!